Non vi chiederei mai di infrangere la legge per risolvere un omicidio. Qui si parla di salvare una vita. Abbiamo una chiamata. Scopritelo. Il sangue mi fa sentire un po'... sai com'è? Hai sbagliato il lavoro. Vi informo che il corpo è stato portato via dall'edificio. È una scena del crimine. Fuori di testa. Do il meglio nei giorni in cui i pensieri arrivano più veloci delle parole che trovo per spiegarli. Veloci. I pensieri arrivano veloci. Ticchere di furbo. Tu sarai sempre speciale per me, Wolf King. Forse troppo furbo. Fino a quando morirò. Non trovarci, papà. Fino a quando. Benvenuti nel club. Fino a quando. Qui si parla di****e. Come.